Un semaforo che mette a rischio i pedoni. Da ormai quattro mesi non funziona e nonostante i continui appelli rivolti al comune per metterlo a posto, la situazione non è cambiata. Così un residente ha chiamato la nostra emittente per segnalare il pericolo a cui vanno in conto soprattutto gli anziani. E' spento, è spento, lo si vede, lo si vede che è spento. Ed oggi abbiamo raccolto la risposta dell'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese. Ho chiesto di andare subito a verificare se effettivamente c'è questo inconveniente e nel caso non ho dubbi che ci sia, nel caso ci fosse lo andremo prontamente a mettere a posto perché è una situazione di pericolo che assolutamente bisogna eliminare. Sulla questione delle richieste al comune rimaste inascoltate, secondo i residenti l'assessore replica così. Io l'ho saputo oggi, mi sono attivato oggi stesso, quindi invito anche i cittadini a chiamarmi, ho una mail, ho un numero nel mio sito, nel comune di Treviso, quindi io rispondo sempre e prontamente. Insomma, il semaforo dovrebbe tornare a funzionare nel giro di poco tempo, meglio tardi che mai.